Grazie Presidente, dichiaro ovviamente per il gruppo che rappresento Sinistra Ecologia e Libertà l'astensione. Io devo constatare con una punta di stupore l'irritazione che manifesta il Sindaco e che poi viene riportata anche da alcuni consiglieri quando si pone in evidenza una circostanza che invece a me pare assolutamente chiara e che sarebbe opportuno valutare forse con maggiore attenzione anche nell'ambito della maggioranza perché il problema politico che si pone è un problema politico serio, non è una questione di polemica per alimentare una posizione di opposizione, diciamo così. La questione che viene posta quando si segnala lo svilimento degli enti locali, la questione che viene evidenziata quando si pone l'accento sui tagli che hanno di fatto deprivato gli enti locali della possibilità di effettuare delle scelte politiche è una questione di democrazia e le questioni di democrazia si affrontano con modalità che sono ovviamente differenziate a seconda della sensibilità e dell'atteggiamento dei soggetti che sono chiamati a governare gli enti locali, questo è il punto. Una posizione a difesa della democrazia, mi permetto signor sindaco con tutta l'umiltà di cui sono capace ovviamente può portare anche ad assumere dei contegni e degli atteggiamenti critici rispetto ad un'area politica cui si è omogenei così hanno fatto diversi sindaci del centro-destra che con fortissima vigore hanno manifestato il proprio disappunto per delle scelte che sono scelte di natura tecnica ma che sono scelte di natura squisitamente politica perché i tagli, quando non sono, e in questo caso lo sono molto poco, dei risparmi opportuni o doverosi sono, come giustamente sottolineava la consigliera Cicilloni, delle scelte politiche a loro volta e tagliare le risorse agli enti locali significa privare i cittadini della forma di democrazia più elementare che spetta loro. Rispetto ad una circostanza di questo genere si possono assumere due contegni uno è quello passivo e remissivo che dice non dipende da me, è una scelta che spetta a vertici altri, a posizione altre ne prendo atto, mi limito ad imporre ai cittadini delle scelte conseguenti e delle rinunce conseguenti l'altra invece è quella che pone il problema politico anche eventualmente nell'ottica degli equilibri interni lo dico al consigliere Mazzuzzi perché prova passione per questo tipo di argomentazioni polemiche lo provo anche io, mi interessano molto questo tipo di dinamiche in sostanza perché si possono fare scelte differenti, si possono fare valutazioni differenti pur appartenendo anche al medesimo schieramento politico o addirittura alla medesima forza politica perché la retorica del governo amico è quella che ha permesso a questo presidente della regione di annullare di fatto l'autonomia guadagnata in una lunga storia di emancipazione di questa terra in sostanza e allora se noi abbiamo il coraggio in questo momento anche come giunta di diverso colore di assumere un atteggiamento di forte critica rispetto a quelle che sono le scelte nel merito effettuate da questo governo può anche darsi che ci si orienti in una prospettiva più condivisa a rivendicare quello che è l'esercizio di un diritto di democrazia che non può essere rinunciato in questi termini. Grazie